Secondo le statistiche di YouTube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Per mangiare il frigo in un coltello? Nel frigo? Nel frigo? Questo in genere si viene in congelatore. Però il frigo mio è potente? No, prima cosa di mangiarlo faccio una mezz'ora prima, hai capito? Aspetta! Ti faccio la scena, vieni! Vieni il frigo mio che questo è? Ma non lo faccio mai! Ma questo è? È un malavendato! Eh si, no! Eh? Questa è la moetta che ha già la piara. olopi, ti faccio un disksilzio! Voglio un mrmbi? Non Rick? Ah ma c'ha? Dai faccio un website e famigliate! Famigliate! Vabbè! Famigliate e famigliate! Famigliate! Famigliate e famigliate! Famigliate! Grazie! Quica, grazie mille. Grazie per il bitto bello Ma che facita Buon anno e bevi un'altra bottiglia di vino Alla faccia di chi ti vuole male PS il tatuaggio Oh no classiche case italiane Ricordatevi Ragazzi Oh cazzo No ragazzi scusate mi è scappato una scorre Affonzino 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 Oh cazzo Affonzino è ripartito Vinda che la puttana nonna Ma che la puttana nonna La sai o no Ma stu scemo Ma si tutti scemo Ma si tutti scemo vero Ma chissi tutti scemo Ma chissi tutti scemo vero Stu serve tutti scemo proprio Non si sente l'audio su tiktok Ah Ma che la puttana non ma L'ultimo dell'anno Che posso far? Cioè ma poi Ha detto io sono stanco Non riesco più a dormire Ma sai di quando sono stanco? Non penso che Non lo so Eh va giù purtroppo è così No ma non è venuto il proprietario Le live purtroppo ragazzi Per adesso bisogna cambiare gli orari Quindi l'orario delle nuove live Sarà questo Dalle 15 Dalle 13 E dalle 15 E dalle 13 E dalle 15 Alle 13 E dalle 15 Alle 13 E dalle 15 Alle 13 Ringrazio French 14 mesi Cazzi se no Mi ero un attimo impallato Scusatemi Ringrazio ragazzo Vedi l'alert a che serve Perché mi impallo in live Mi impallo E così Mi ero buggato Scusate Orario della melevisione Ma chi si ricorda la melevisione Come si chiamano quelle Quelle I-M-C-A All city I-M-C-A I-M-D-L-L-L-L-E-L-L-E-L-L-E-L-L-E-L-E-L-E-L-E-L-P-E-A-G-G-O-N-U-R-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-F-E-L-E! la miseria mannaccia la miseria no pro king grazie per i 5 lullita se tu vieni vieni gratis tu già sei invitato autoinvitati vieni quando vuoi tu la casa mia è sempre aperta per te allora viva i pinguini cosa mangiamo signori chiamo una mini banda e mi faccio suonare una canzone tipo di bethoven qualcosa così e facciamo il test come si chiama questa canzone? i zambognare poi viene la vicina con il ferro con la canzone tipo così con la canzone di comorra allora non mi capeste mi concedete un attimo una aperipisce aperipisce perché dopo l'aperitivo c'è l'aperipisce un attimo solo secondo tu ma niente pure se mi sentite sti cazzi un attimo solo oh cazzo le palle vicino alla patrice ooooh 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 via mannaggia jesu christa vai giù mannaggia putte sanso mannaggia ma sono cagato sotto pensavo che stai qua con una cadere ed maronna mia mamma mia evento se vuoi comprare il biglietto punto esclamativo evento in chat in mok in foro fashion piglia caga pokemon hai capito frato non mi dice niente e se non piglio ferretto sparano sotto i niente hai capito sto goliardico non c'era fottonu cazzo ma prima fai a sub o canale non mi ha fottonu cazzo e l'ateca io sono mai scasso tutte cose io faccio un rapper vai giù e sto facendo una andiamo ahhh 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 Non fa niente? Cioè... Fai una notte, no? Ma non c'è, guarda, ora... Sto sparando per la dica... Porco Dio! Fai una notte! Cholets! ok siamo pronti all'assaggio signori pronti 3 2 1 stop freeze oh